Genova si è svegliata sotto una spessa coltre di ghiaccio dappertutto, tetti, strade, marciapiedi. Il Comitato per la Sicurezza si è riunito urgentemente alle 4.30 di questa mattina e ha deciso che le auto private non possono circolare in città fino alle 10. Nodi autostradali genovesi percorribili con grosse difficoltà e uscite obbligatorie a Bolzaneto e Nervi. Decretata la sospensione delle elezioni. In attività 24 mezzi spargisale. Non ce l'hanno fatta a contrastare la situazione che si è verificata nella notte. Pioggia e vento con temperature rigidissime e un sotto zero che a Genova è difficile vivere.